Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi 25 maggio, vediamo se adesso funziona meglio, ho fatto una piccola tentativa prima ma adesso spero che la diretta sia ben congegnata tecnologicamente. La cosa fondamentale che è successa sui giornali oggi è questa proposta incredibile degli assistenti civici. Io quando mi dicevano alcuni amici, l'ho fatta questa battuta, cioè che siamo nel momento peggiore, con la classe dirigente peggiore, dicevo beh forse siamo un po' ingiusti. Saluto Don Egidio, saluto Paolo che si sono collegati ora, Filippo. In realtà quello che riesco a capire più passa avanti, più passa il tempo e più mi rendo conto che la classe dirigente che abbiamo in questo momento è di pippe col botto. Cioè è imbarazzante questa idea, cioè soltanto l'idea degli assistenti civici vuol dire che questi non hanno la più pallida idea di come giri il mondo, perché nella loro testa 60.000 disoccupati, cassa integrati, pensionati dovranno dare 16 ore al giorno per fare i, come si chiamano, gli assistenti civici. Cioè dovranno venire nei bar, nella tremenda movida di cui parleremo tra poco e quando ci sono due persone che sono a meno di un metro dicono scusami il disoccupato o il pensionato guarda che tu stai a meno di un metro. Sapete che cosa succede? Io ve lo dico con grandissima franchezza, non me lo auguro, non me lo auguro, anzi spero che questa cosa sia un flop come i navigator, cioè le grandi geniali idee di questo governo di merda, navigator, assistenti civici, che questa roba qua verranno presi a calci nel sedere, perché quando un ragazzino che è stato per tre mesi a casa, zitto, si fa una sigarettina, una birretta e qualcuno viene vicino a lui e dice scusami ragazzino dopo che sei stato tre mesi, guarda che tu sei a 90 centimetri e non sei a un metro, oppure tu ti sei abbassato sotto il mento la mascherina mentre ti prendi la birra, poi quando hai finito la birra devi rimetterti la mascherina sopra, voi capite che noi abbiamo a che fare con delle persone che la birra non la prendono per la movida, ma ce l'hanno dalla prima mattina, cioè dei tossicodipendenti, degli alcolisti non anonimi, belli con tutti quanti i nomi, quando io leggo oggi Boccia che dice alla stampa ora basta, dobbiamo richiudere le regioni, ora basta de che? Cosa sta succedendo? Io so che molti non la pensano come me, perché molti sono ancora impauriti, perché a molti gli abbiamo raccontato che questo virus è tremendo e lo è tremendo, ma siccome sta scemando i contagi, i morti, pensate un po' voi, è stupendo, oggi il fatto quotidiano, ieri ci sono stati zero, zero morti in Lombardia, il fatto quotidiano fa una battaglia sull'Italia contro la Lombardia che avrà commesso mille errori, saranno stati incapaci, però obiettivamente sono quelli che hanno beccato questa botta in faccia per primi, beh oggi ve lo devo vedere, nessun decesso in Lombardia, mentre noi decidiamo che ci siano gli assistenti civici, basta Gallera si dimetta, dice Martina, un altro grande, fantastico, ricordiamo Ministro che fu Martino al fatto quotidiano, ieri, sentite il fatto quotidiano, all'improvviso la regione ha dichiarato zero morti, sarà vero? Va bene tutto, vorrei ricordare che la stessa Italia dichiara morti inferiori rispetto a quelli che ha dichiarato l'ISS, cioè alla fine il conteggio dei morti è un po' un casino, però se ieri la Lombardia dichiara zero morti, sarà vero, perché lì ci sono i delinquenti, ci sono quelli che godono, c'è il genocidio sanitario, quello che ha detto una giornalista del servizio pubblico in prima serata, tant'è che Sallusti ha detto, ma come si fa a dire una cosa di questo tipo rispetto a una regione che ha beccato questa roba? Allora qui abbiamo due obiettivi, un obiettivo politico, la Lombardia che sono delle pippe, beh ci mettono anche del loro magari a fare qualche figuraccia e dall'altra abbiamo i ragazzi che fanno la movida e oggi ho letto un pezzo su Wired, in realtà è del 21 maggio, oggi siamo al 25, quindi non so se è ancora fresco, freschissimo, di Simone Cosimi su Wired, rivista che si occupa non necessariamente di politica e dice raccontare la fase 2 come, aspetta, come se fosse un disastro per i rave giovanile senza fine, è sbagliato, perché in realtà se oggi ci sono delle colpe sono quelle delle mancanze delle istituzioni, i sieri, i tamponi, le mascherine, i controlli, gli ospedali, in realtà continua Wired, secondo me è un pezzo che vale la pena di leggere, la battaglia all'aperitivo è l'ennesimo bersaglio mobile, perché i bersagli mobili abbiamo avuti, prima vi ricordate quelli col cane? Quelli col cane erano degli untori, quelli col cane erano dei fiedri a mignotta, quelli col cane dovevano essere ammazzati con i loro cani in una gigante di popò che doveva riempire le loro case, e non ho detto le parolacce, e poi i runner, tutti i runner, beh effettivamente ci sono più runner, ma se uno sta a casa per tre mesi forse gli va di farsi una corsettina a cui prima non pensava, perché la libertà quando la perdi cerchi come l'acqua di farla infiltrare nella tua vita e nel modo più possibile del mondo, anche quello di correre, a qualcuno a cui correre ha fatto sempre schifo, perché pur di essere liberi si corre, e io non ci vedo nulla di male nel rincorrere appunto la propria libertà, e ora non bastano più runner, non bastano più quelli che portano a far popò i cani, ma ci sono quelli che vanno a prendersi l'aperitivo, allora io vorrei chiedere a questi geni, io vorrei chiedere a Boccia, Boccia spiegami una cosa, se i ragazzi stanno facendo tutto questo casino, anche se i contagi diminuiscono, i morti diminuiscono, però abbiamo sempre la paura della seconda ondata, perché la nostra memoria è sempre quella, no? Che cosa succede? Noi non avremmo dovuto ancora aprire, cioè secondo Conte e i Boccia e il comitato tecnico scientifico, avremmo dovuto tenere già tutto chiuso, è stata anticipata la riapertura, e quando voi mi pensavate, non voi che mi seguite nella zuppa, e quanto tanti di voi dicevano che il porro sta esagerando, se il solito scriteriato, beh insomma ricordatevi abbiamo fatto tre settimane in più urlando anche modestamente su questa zuppa, per spiegare che questi sono pazzi, e vi vorrei ricordare un'altra cosa, voi che state col culo al caldo, con le vostre seconde casette a forte dei marmi, che ve ne fottete di quello che succede, voi anche che siete più modestamente degli impiegati pubblici con quattro soldi, o dei pensionati con i quattro soldi della pensione, esiste un'altra parte dell'Italia che è un cedro produttivo, che va dall'NCC al tassista, all'ambulante, financo a quelli che sono 160.000 che si occupano di giochi legali, che non hanno più un euro in tasca, tappezie idraulici, se tu non ti fai tre caffè al bar, se tu non ti mangi tre pasti al ristorante, non è che poi si riapri dopo tre settimane e hai guadagnato qualcosa, hai perso tre settimane in più di fatturato, e quel fatturato non glielo dà un cavolo di nessuno a questi, ma figuratevi, chi se ne frega, poi tanto no, i dipendenti pubblici il loro stipendio al 100% ce l'hanno, e voi con il vostro culetto al caldo forte dei marmi potrete stare certi che il vostro patrimonio sarà tale per cui le vostre generazioni andranno a posto, nessun problema, il problema è che c'è milioni di persone che in questo momento stanno veramente male, e noi stiamo qua a pensare alla Movida, la Movida tra l'altro è fantastico, perché ce lo racconta oggi Cosimi, la Movida, sapete da cosa nasce? È il grande momento di libertà che hanno gli spagnoli dopo la fine del franchismo, chiaro? E dopo la fine di qualsiasi dittatura, di qualsiasi privazione della libertà, soprattutto tutti più giovani, ma io che non sono giovane mi metto tra loro, la libertà di potermi prendere un drink all'aperto non voglio che me la tolga nessuno, rispettiamo le leggi, ho bisogno di una mascherina se c'è la mascherina, mi fa schifo ma me la metto, devo stare un metro, lo trovo incredibile, ma lo rimango, non posso andare con un autobus se non a tre mesi di stanza, lo faccio, ma siccome è legittimo poter fare la Movida, non la criminalizziamo, chiaro? Non sono i nuovi criminali, perché sennò questo paese è tutto criminale, guardate che noi stiamo avviandoci a una lenta morte per le nuove regole sanitarie che ci stiamo dando in virtù di paure che sono largamente esagerate, largamente esagerate, lo dicono gli scienziati, non lo dico io, una grande parte degli scienziati dice che sono, guardate io ve lo farò vedere questa sera a Quarta Repubblica, vi dicono di sanificare le vostre case, chiedete per favore tutti gli scettici, tutti quelli che non amano la zuppa di porro, tutti quelli che dicono che sono troppo aperturista, io vi faccio una domanda semplice, andate su Google, andate sull'ISS, andate sull'OMS, andate dove cazzo vi pare e cercate di capire quanto tempo il virus rimane sulle superfici, bene, non ve lo dicono con certezza, perché non lo sanno, eppure che cosa vi fanno fare sanificazioni di queste case in modi assolutamente incredibili, l'unica caratteristica che hanno è rompere le scatole ai lavoratori, condomini e palazzi su una loro ignoranza, cioè non sanno quanto debbano essere sanificate, e aggiungo sulla mascherina che ci obbligano a tenere anche all'aperto, io mi ricordo il capo della protezione civile che diceva io non me la metto, insomma sono io un terrorista, forse lo è anche Borrelli allora, ma non è successo sei mesi fa, è successo due mesi fa, un mese fa che ha detto che non si sarebbe messo la mascherina in pieno contagio, bene, mentre noi siamo qui che cazzeggiamo sulle questioni diciamo che riguardano gli sceriffi e questi fantastici assistenti civici, 60.000 assistenti civici navigator dei miei stivali, c'è un terremoto nella magistratura, per un semplice fatto che hanno intercettato Palamara attraverso questo microspia e Palamara era detta di tutti i colori, una di queste era devo distruggere Berlusconi, e vabbè, e questa la sapevamo, ma in altre intercettazioni, per esempio una che è molto divertente, si fa per dire, in cui dice quella merda di Salvini, questo ha detto in una intercettazione Palamara, così come tanti altri magistrati consideravano incredibile il processo che avrebbero fatto a Salvini per sequestro di persona, però zitti e muti si processa anche se si crede che giuridicamente è folle. Beh, comunque, questa è la storia della magistratura italiana, sempre da una parte, sempre contro una parte politica, anche se non solo, perché ha cercato addirittura di fare un impeachment Presidente della Repubblica, ha buttato giù di fatto prodico la questione Mastella, cioè la magistratura italiana non è fatta soltanto da questi briganti, è fatta anche da tante altre persone normali, certo è che il governo della magistratura italiana, anche compreso il Presidente della Repubblica, non mi sembra, capito, la casa trasparente e di vetro che uno si potrebbe immaginare, fantastico oggi zurlo perché porta avanti un'intercettazione in cui un magistrato dice a un altro magistrato, occhio che se mi dai buca ne parlo con travaglio, come per dire l'uomo nero, diciamo, del giustizialismo. Buona fede, il Fatto Quotidiano, che è il giornale, diciamo, di regime, che cosa dice? Subito la riforma anticorrenti CSM, toc toc! Buona fede? Ma scusa, ma tu non ti sei accorto che il CSM, si dimisero cinque membri del CSM esattamente un anno fa e tu eri ministro e avevi detto la stessa identica cosa e non è avvenuta nulla, ma ci state tutti a prendere i fondelli, cioè è una cosa stupenda, ora la riforma del CSM, ma benissimo, ma in quest'ultimo anno che abbiamo fatto spazzacarrotti, spazzacquardi, là e tutto, tutto abbiamo fatto, ma ci avevi detto esattamente la stessa cosa un anno fa quando si dimisero cinque consiglieri del centrodestra, diciamo, di area moderata del CSM, oggi che invece i consiglieri del CSM sono di sinistra e che si dovrebbero dimettere non si dimette nessuno, tranne forse il presidente dell'ANM, cioè del sindacato dei magistrati. Gran casino, terza notizia della giornata su autostrade, perché in realtà i Benetton non fanno più investimenti, Conte vuole mediare, la mediazione secondo Ciriaco oggi su Repubblica sarebbe quella dei Benetton che alla fine riducono il peso all'interno di autostrade che controllano in maggioranza, vanno in minoranza, entrerebbe un altro socio privato, entrerebbe anche la cassa depositi e prestiti. Vedremo se sarà così, certo è che mi sembra incredibile questa storia di autostrade, perché a differenza di tanti amici che mi seguono, io penso che autostrade bisogna controllarle, bisogna magari ridurgli la concessione, data dalla sinistra, in maniera assurda, ma oggi gli unici che possono immediatamente fare degli investimenti sul sistema autostradale italiano e quindi dare un po' di volano alle imprese sono quelli di autostrade, quindi li prendi per così, per il collo e dici mo, fai quello che non hai fatto, poi dopo vedremo, ma intanto fai quello che non hai fatto, è quello che io farei in maniera molto razionale se devo risolvere un problema di emergenza appunto come l'attuale. Nel frattempo bellissimo il pezzo di Laura della Pasqua oggi sulla verità perché si cucina questo mito di De Luca che è diventato una macchietta di se stesso, nel senso che io sono abbastanza convinto che Campani piacerà e verrà eletto come presidente della Campania e i sondaggi dicono che questo dovrebbe avvenire, ma il suo comportamento è il comportamento proprio del guappo, ma non napoletano perché mi sembra offensivo, ma del guappo, del guappo, del guappo compano proprio, è quella roba lì, è uscito da un film di De Filippo, è diventato una caricatura di se stesso, ha deciso, posto che come dice oggi la della Pasqua, posto che il suo sistema sanitario l'ha distrutto, dice la della Pasqua, ha ridotto le terapie intensive, non le ha raddoppiate come aveva promesso, posto che ha fatto questo ha detto chiudiamo tutto e poi dopo però qualche problemina ce l'avremo, ovviamente non è che nascono subiti perché poi li ha riempiti di assistenza e in questo è stato molto abile, cioè ha dato assegni a tutti De Luca utilizzando i fondi europei, quindi abilissimo in questo, ma fra tre mesi, fra quattro mesi, quando ristoranti, alberghi, trasporti pubblici, trasporti privati e tutti i servizi non funzioneranno e non porteranno a casa soldi, De Luca, ciao bello! Forse è per questo che vuole che le elezioni regionali avvengano il prima possibile, perché fra qualche mese ci si renderà conto che il lockdown assurdo fatto da De Luca ha un peso, oggi non lo dico io, lo dice un sindaco molto semplice di Positano, cioè un sindaco che a differenza di quelle città là di Forte dei Marmi è un sindaco molto serio, non so se prende lo stipendio o no, ma possiamo dire che mi sembra un sindaco molto serio, in cui dice una cosa molto seria, nella nostra città ci sono 75 Alberti, Positano, 6 extra lusso, centinaia di ristoranti, continuare in questa maniera con un lockdown senza avere una data, senza avere una precisa punto di riferimento, sapete cosa vuol dire? Morire, perché noi non riusciremo a sopravvivere, non c'è nessuna salute pubblica che funziona aumentando la povertà della gente, questo l'ha detto Rocco Forte, non Margaret Thatcher, un albergatore londinese, ma sul Daily Mail che io condivido al 100%, lo condivido con il sindaco di Positano De Lucia, lo condividono con il sindaco di Olbia di cui ho parlato ieri, come si chiama? Adesso ve lo trovo, Nizi, insomma ci sono dei sindaci che capiscono che lo sceriffismo nel breve periodo paga, perché siete tutti contenti, tutti impauriti, i media vi hanno fatto cagare sotto, in realtà nel medio periodo poi i soldi la paura non ve li dà, si muore di fame più che morire di paura fra poco tempo se continuiamo così. Stasera, Quarta Repubblica, non mancate Giorgia Meloni e poi tutto questo scandalo dei magistrati che come sapete è uno dei miei chiodi fissi da tempi un anno fa, da quando si dimisono quelli di centrodestra, si dimisero allora e oggi quando scopriamo che i magistrati dicono che Salvini è una merda, beh, in questo caso ovviamente tutto è lecito. Ciao!